Lo stimo uno degli uomini più grandi fra quelli vissuti nel nostro tempo. Non vedremo mai più nessuno come lui. Il suo nome riviverà nella storia, riviverà negli annali della guerra, riviverà nelle leggende dell'Arabia. Chi sarà? Beto! Tafas! Qual è il tuo nome? Il mio nome lo dico ai miei amici. E io non ho amici fra gli assassini. Avanti! Da oltre cinque lustri, i giudizi più disparati divampano intorno al nome del colonnello Lorenz. Nessun uomo dei nostri tempi ha attirato su di sé tante lodi e tante critiche. Lorenz da rabbia, l'uomo combattuto fra due civiltà. Lorenz da rabbia, un film realizzato in una cornice di stupefacente splendore. Non è il tenente, il suo consigliere militare, altezza. Però a me interessa la sua opinione. E insomma, Lorenz, da chi prende ordini lei? Dal principe Faisal, se è nella sua tenda. Con la rivelazione di un nuovo astro, Peter O'Toole, nella parte di Lorenz da rabbia. Com'era nella realtà questa figura controversa che divenne leggenda nel corso della propria vita? Era l'uomo più straordinario che abbia mai conosciuto. Era un uomo eccezionale. Era un poeta, un umanista e un prode soldato. Ma era il più spudorato esibizionista che abbia mai popolato la terra. Secondo lei, che cosa spera di ottenere questa gente combattendo? Spera di ottenere la libertà. Di illusi ne nasce uno al minuto. Ma lo terranno, signor Bentley. E starò io a dargliela. Lorenz e la terra d'Arabia, insieme, fecero la storia. Ora, una schiera di attori famosi vi rivela questa storia. Alec Guinness, il principe Faisal. Gli inglesi sono sempre stati avidi di terre desolate. E ora potrebbero volere anche l'Arabia. Anthony Quinn, Auda Abutai. Io ho 23 grandi ferite tutte ricevute in battaglia. 75 uomini ho ucciso con le mie mani in battaglia. Io distruggo le tende dei miei nemici. Gli porto via le greggi di capre. I turchi mi danno oro a profusione. Eppure io sono povero. Perché io sono un fiume per il mio popolo. Jack Hawkins, il generale Allenby. Il suo nome lo conosceranno anche i bambini quando bisognerà ricorrere agli archivi per scoprire chi ero io. Lei è l'uomo più straordinario che io abbia mai conosciuto. Non mi tormenti. Cosa? Mi lasci in pace. José Ferrer, il bei turco. Hai la pelle così bianca. E al loro fianco Anthony Quayle, Claude Rens, Arthur Kennedy. Con Omar Sharif nella parte di Ali. E Peter O'Toole nella parte di Lawrence. Il cho l'unico delle feste. Grazie a tutti.